Musica Il Capodanno dell'Annunciazione è la ricorrenza istituita nel 2015 dalla Regione Toscana. Montepulciano ha partecipato alle celebrazioni il 9 di aprile con un proprio evento intitolato I della Robbia a Montepulciano, un itinerario culturale alla scoperta delle terracotte invetriate e delle annunciazioni. Il progetto, presentato dal Comune, è stato finanziato dalla Regione, ottenendo un punteggio elevato. Noi abbiamo celebrato il Capodanno dell'Annunciazione facendo riferimento a delle annunciazioni particolari che abbiamo nel nostro territorio, nei nostri splendidi contenitori del centro storico, ma non soltanto del centro storico, anche fuori le mura e nelle frazioni, che sono appunto le annunciazioni robbiane. Ovviamente i della Robbia hanno lavorato a Montepulciano non soltanto su annunciazioni, ma noi abbiamo focalizzato l'attenzione proprio per l'occasione sulle annunciazioni, che sono distribuite appunto nel territorio. Solo per fare riferimento a Piazza Grande o i dintorni di Piazza Grande, il Museo Civico e il Duomo. All'interno del museo noi abbiamo la pala di Fonte Castello, che è quella dove si trova anche l'annunciazione a cui facciamo riferimento. Invece all'interno del Duomo, l'altare praticamente del Fonte Battesimale, attualmente l'altare del Fonte Battesimale, con una lunetta in cui c'è appunto raffigurata sempre la Vergine Annunciata e l'Angelo Annunziante, con in mezzo un vaso di gigli, infatti quello si chiama l'altare dei gigli. Nel progetto c'è anche il libro di Antonio Sigillo, presentato nell'occasione, una sorta di guida alle opere robbiane presenti nel territorio. Il libro presenta un itinerario all'interno e all'esterno delle mura, alla ricerca di quelle robbiane, opere d'arte e anche opere d'arte che riguardano le annunciazioni. Noi ne abbiamo esattamente tre, una è all'interno del Museo Civico, un'altra in una chiesa esterna che è la Madonna delle Grazie, un'altra ancora è alla Madonna della Querce. I della Robbia hanno lavorato molto, non solo a Montepulciano, ma nell'intera Val di Chiana. Siamo nelle due valli che detengono molte opere robbiane. La Val d'Orcia ha un itinerario robbiano che parte da Siena, da Porta Romana, arriva fino a Radicofani e poi da lì ancora con pochi passi si può arrivare a Santa Fiora. Nella Val di Chiana invece noi possiamo, abbiamo Montepulciano, come appunto il libro Capofila lo attesta. Poi Chianciano Terme possiamo fare una piccola deviazione per l'Umbria con Petrignano e Pozzuolo per poi arrivare a Foiano della Chiana dove c'è quella meravigliosa, quell'opera mirabile della Madonna con Bambino. Per quanto riguarda la città del Poliziano, il maggior numero di opere dei della Robbia si trova al Museo Civico Pinacoteca Crociani, dove c'è una sala intera dedicata alle terracotte robbiane. Dopo la presentazione del volume di sigillo, i presenti sono stati accompagnati dal professor Longi in una visita guidata del museo, che si è proprio conclusa nella sala delle opere dei della Robbia. L'annunciazione qui presente è stata realizzata da Andrea. Questa proveniva da questo distrutto grandissimo monastero che si chiamava di Fonte Castello. Qui si può vedere in tutta la sua bellezza, come dice il grande retino Giorgio Vasari, un'arte bella, utile e nuovissima. In realtà non era nuovissima perché la terracotta in vetriata policroma era già conosciuta in antico, ma la sua ed è straordinaria perché la riattualizza e soprattutto perché la usa per la scultura, quindi scultura a tutto tondo, a basso, a alto rilievo e soprattutto fortifica la gamma dei colori, quindi giocare con i colori è una realtà di grandissima fascinazione, perché l'invetriatura rende ancora più resistente e lucente la terracotta e in più da questa grande fascinazione del colore. Quello di sabato è stato il primo di una serie di appuntamenti a seguito della riapertura del museo dopo la chiusura per lavori agli impianti. Il museo è riaperto il primo d'aprile ed è un invito a venire tutti a vedere il museo perché il biglietto per tutto il mese di aprile tra l'altro è gratuito. Grazie per la visione!